dai Robè sbrigati che come al solito siamo in ritardo per colpa tua forza sempre in ritardo dobbiamo stare adesso andiamo a prendere Idir la nostra regista la nostra regista preferita ti piace il mio meet up? perfetto perfetto da cinema perfetta perfetta l'ha fatto mamma produzione esecutiva Idir io l'ho assaggiato la birra guarda è stata veramente hanno bisogno di noi per rivalutarsi la scelta giusta la scelta ingiusta ho quattro affari che ti ho spiegato abbiamo quattro cavi pronti attaccati alla spina l'unica cosa che dobbiamo prevedere ah per quella magari se mancano andiamo a casa mia a prenderli le triplette le triplette non so se le triplette ci stanno ora ti faccio vedere prima di andare via ora facciamo vedere con Dimitri magari apri la macchina vediamo se ci vanno questi se ci vanno questi sai quello che devi scegliere io fondamentalmente è un spot fatto per la casa ok non è che ci hanno commissionato ma stiamo partecipando a un concorso semplice sono convinto portano un bacchetto di sigaretta se vieni fa 10 questa era la nostra ponte questa era la costatella non sei credibile nebbia non so c'ho un occhiale intellettuale sei troppo intellettuale sono buono dentro senti ma com'è possibile che la protagonista sia innamorata di te com'è possibile che si strugia a te ma stanno bisognerebbe solo aumentare un po' la luce fuori perché il vetro si perde completamente nero bisognerebbe mettere una di queste qui mettitele tutte e due un po' tutte e due le facciano la piccola mano questo è l'attenzione Luca dice tu non mi fai le domande io te la rispondo tu non mi fai le domande ti sei fatto i capelli hai fatto i capelli hai fatto i capelli ho fatto la gamba si ho fatto il capello quindi questo è accettabile si ok si si basta perché se no poi è troppo e c'ha schizzo sulla spalla è più che sul collo sulla spalla di più di più ma c'è un discorso? ma c'è un discorso? e niente ciao loro sono un piano americano? si è un po' di meno del piano americano facciamo l'americano allora bene ok gravi ok via camminata via 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 non mi guardare guarda Fabio sempre da capo da capo da capo mi guarda чесi ma dai Vai sui bicchieri Salute